Le macchie rosse che puntellano le chianche di piazza Manfredi nel cuore di Oria non provengono dai grappoli portati quasi in processione sui carri durante la tradizionale festa dell'uva e del vino pugliesi che come ogni anno segna la fine dell'estate. Nel paese del Palio sono macchie di sangue appartenenti a un ragazzo di 17 anni che nel cuore della notte, quando ancora i locali erano stracolmi di gente, è stato ferito a colpi di pistola a una caviglia. Per fortuna nulla di grave per lui e soprattutto nessun altro coinvolto in una sparatoria folle davanti a centinaia di persone. I carabinieri sono tornati domenica mattina in piazza Manfredi per acquisire dei locali che si affacciano qui e nelle vie vicine le immagini delle telecamere a circuito chiuso. Altri militari si sono recati all'ospedale Perrino di Brindisi per interrogare il ragazzo di 17 anni ferito a un piede e che non ha precedenti penali. La sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra giovanissimi intorno alle 3 di sabato notte. Dopo gli spari, la fuga di chi ha fatto fuoco verso via Manduria, la strada che porta fuori dal paese. Poco dopo, l'arrivo dei carabinieri, i soccorsi al ferito che è stato accompagnato in ospedale e un altro giovane che è entrato in un bar per tamponare un taglio sanguinante con un tovagliolino di carta. I militari cercano di ricostruire l'accaduto, filmati e testimoni non mancano.